E' un attore limitatore Sto programma si chiamerà Radio Folk Scusate, io mi sbaglio sempre Comunque partiremo prossimamente L'unica cosa mi hanno detto dal contratto è che mi doppieranno Non capisco il formino Il motivo Comunque adesso te devo salutare che c'è un attimo di impegno A profogo, grazie mille, ciao carissime Grazie mille